Domenica 18 agosto, Sant'Elena Imperatrice, è il 230esimo giorno dell'inizio dell'anno, ne mancano 135 al termine, il sole sorge alle 6.14, tramonta alle 20.14, la luna sorge alle 21.58, tramonta alle 8.47. Un bando a stampa proibisce la mala consuetudine, usata per gli famigli, massare, eccetera, di buttare ruinazze, sconcezze ed altre immondizie negli lì e sopra le strade pubbliche. Ai trasgressori erano combinate non solo pene pecuniarie, ma persino di essere frustati attorno alla Contra, dove fosse avvenuta la contravvenzione. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti nel pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Precipitazioni sulla pianura assenti, sui monti probabilità bassa per temporali locali dal pomeriggio. Temperature generalmente in lieve aumento, sui monti in calo leggero o moderato dal pomeriggio. A presto.